A pochi giorni dall'uscita di Tales from the Borderlands, Telltale torna sulla bocca dei giocatori con quella che è molto probabilmente la sua licenza più ambiziosa, Game of Thrones, il trono di spade. Sarà riuscita a rendere giustizia all'opera di Martin e alla pluripremiata serie televisiva? Scopriamolo. Non potendo ovviamente usare il casto originale, è stato deciso di rendere protagonisti i membri della casa Forrester. Ma un paio Forrester! Scusate, errori dalla regia. I membri della casa Forrester, che nei libri vengono appena accennati in una sola occasione, lasciando poi sullo sfondo quelli originali, che sono comunque presenti. In questo episodio avremo ad esempio a che fare con Cersei, Tyrion e Ramsay Snow. Ma torniamo ai Forrester. Da sempre fedeli agli Stark, i Forrester hanno appoggiato la guerra ai Lannister di Robb Stark, gli eredi del Nord, ma in seguito alle Nozze Rosse, la loro posizione si è fatta pericolosa. Con i Bolton saliti al potere, rischiano di perdere il controllo sulla foresta di Ironwood e di vedere svanire nel nulla la loro casata. In questo primo di sei episodi, vestiremo i panni di tre personaggi. Il giovane Ethan Forrester, il migliore dei tre, è appena divenuto lord di casa Forrester. Mira Forrester è invece dama di compagnia di Margaery, ad approdo del re. Infine Gared, scudiero di casa Forrester. Attraverso i loro occhi, vedremo quindi le fasi iniziali della storia dei Forrester, che ha molti rimandi a quella degli Stark, in una sceneggiatura curata e ben incastonata nell'universo di appartenenza. Come unico difetto, posso dire che questo primo episodio è in alcuni punti leggermente lento, per poi risalire in altri e riprendersi definitivamente nella parte finale, che dimostra come gli sceneggiatori abbiano recepito in pieno lo stile di Martin, con tutti i pro e i contro. Infine, è bene essere chiari, il gioco è rivolto ai fan dei libri e della serie, e se non fate parte del club, non capirete praticamente niente della storia. Stile Nuova Telltale, dovrebbero bastare queste parole per farvi capire su quali binari si muove Game of Thrones, molto attenzione ai dialoghi quindi, con decisioni importanti da apprendere in poco tempo. Devo dire che mi sono piaciute molto come sono state gestite alcune conversazioni. Si riesce quasi ad avvertire l'attenzione generata dal dover confrontarsi con Cersei nel tentativo di compiacerla, o nel cercare di trattare con uno psicopatico come Ramsay. Come la tradizione Telltale, le nostre scelte cambieranno alcuni dei dettagli della storia, e nessuna di esse si è dimostrata facile da prendere. Non pensate comunque di poter cambiare le basi portanti della serie, anche se sarebbe stato bello prendersi una rivincita su quel sadico killer di Martin, che io sospetta per esangue l'annister nelle vene. Minori sono invece le sezioni Quick Time Event, che si limitano alla prima parte dell'episodio, e che non ho trovato particolarmente riuscita. Tecnicamente parlando, c'è qualche problemino. Per questa nuova serie è stato scelto uno stile che ricorda un dipinto ad olio, ed in effetti se si guardano le immagini statiche l'impressione è molto buona. Meno buono invece l'effetto di movimento, tanto che inizialmente avevo pensato a dei bug grafici, soprattutto per il bordo sfocato dai personaggi e di alcuni dettagli. Graficamente i Telltale hanno dimostrato di saper fare di meglio, insomma. Generalmente buone le animazioni, con qualche legnosità qua e là. Nessun bug da segnalare, a parte i soliti glitch. Un po' incostante è invece il framerate, che ha subito qualche calo in un paio di occasioni. Niente che pregiudichi la giocabilità, comunque. Penso che sia la prima volta che trovo da ridire sul sonoro di un gioco Telltale, non per cattiva qualità, ma per il suo essere un po' anonimo, per una casa che ci aveva invece sempre abituato ad una qualità altissima. A parte il tema principale, ripreso dalla serie, non ci sono musiche che mi abbiano attratto particolarmente, limitandosi al loro compito senza infame e senza lode. Eccellente invece il doppiaggio in inglese. Il gioco non è tradotto in nessuna lingua, quindi chi non ha una buona conoscenza dell'inglese è al momento tagliato fuori, in attesa di una traduzione amatoriale o di una ufficiale a fine stagione. Luci e ombre su questo inizio di stagione. Se dal punto di vista della storia il gioco convince, nonostante qualche lentezza, dal lato tecnico mostra invece il fianco a qualche critica. Il seme è stato comunque piantato. Vedremo come Telltale riuscirà a farlo crescere, ma in Telltale dovrebbero tenere bene a mente che al gioco del trono si vince o si muore e che l'inverno sta arrivando.